Simon Chiarer è uscito dalla clinica Columbus dopo aver effettuato gli esami strumentali, la visita è durata un'ora e mezza. Il difensore rosso-nero, sorretto dalle stampelle, indossa un vistoso tutore al ginocchio. Stando a quanto appreso dalla redazione di Milan News, la risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Chiarer hanno confermato la necessità di un'artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L'intervento verrà effettuato domani. Ulteriori informazioni sui tempi di recupero e sui legamenti interessati arriveranno domani al termine dell'intervento. Anche il terzino destro, Davide Calabria, è stato oggi alla clinica Columbus per una visita di controllo. Il giocatore sta recuperando da uno stiramento al polpaccio, con Stefano Pioli che, ovviamente, si augura di averlo al più presto a disposizione. L'esame di oggi dovrebbe fornire maggiori indicazioni sulla data del ritorno in campo di Calabria, uno dei pilastri del Milan, un giocatore determinante nello scacchiere tattico rosso nero.